Un complesso eterogeneo lo hanno chiamato, composto da elementi della banda e dalla fanfara della Brigata Pinerolo, dal corpo militare della Croce Rossa e dagli studenti del Conservatorio Piccini di Bari. Castel del Monte si trasforma in un teatro a cielo aperto. Dedicato ha il titolo del concerto voluto dalla Brigata Pinerolo dell'Esercito Italiano per sancire il legame con la Puglia e la Murgia e raccogliere fondi in favore della Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Vogliamo stare insieme, dando modo al cittadino di venire ad ascoltare questo concerto, fatto con altre istituzioni, altre istituzioni che ci hanno dato una mano e con cui abbiamo anche collaborato per fare dei programmi di prevenzione sulla salute. Ogni giorno 496 italiani muoiono di cancro, tutto questo la dice lunga sull'impegno che dovremmo svolgere, di cui quindi il mio ringraziamento in particolare alle forze armate in generale ma alla Pinerolo in questo caso particolare e se mi permettete anche a Maldrizzi che ha messo a disposizione un'autovettura per il trasporto dei malati perché tutti quanti insieme se riusciamo a fare rete, squadra, questa malattia non solo si supererà ma sarà una malattia cronica come l'astrosi, diabete e ripetensione.